Parte di un unico ed irripetibile racconto che accompagna il visitatore... La provincia di Matera ha presentato nel corso di una conferenza stampa i progetti di valorizzazione turistica delle aree protette di San Giuliano Matera, Pantano di Policoro e Calanchi di Montalbano Ionico. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica prevede in particolare la realizzazione di percorsi e sentieri all'interno delle tre aree e la loro piena fruibilità, anche per i disabili. Percorsi arricchiti attraverso elementi che caratterizzano il singolo territorio con l'obiettivo non solo di valorizzarlo ai fini turistici, ma di renderlo frequentabile e vivibile anche per la popolazione locale. Siamo usciti ad ottenere una risorsa finanziaria per poter realizzare un concorso di idee e poter far sì che attraverso questo progetto si possa rivalutare, rafforzare e permettere innanzitutto ai nostri cittadini di vivere le bellissime riserve, la diga di San Giuliano, il bosco Pantano, di Policoro. E la riserva regionale dei Calanchi di Montalbano. Ma in modo particolare riuscire a creare anche quei macro attrattori necessari per poter attrarre turismo esterno e riuscire a realizzare maggiore opportunità sul territorio. Sono previsti diversi interventi che cercano di coniugare le necessità di salvaguardia della flora e della fauna locali, delle tre aree protette, con una valorizzazione, una fruizione dal punto di vista turistico, realizzata anche in modo da favorire la conoscenza dei luoghi, degli animali e delle specie di flora attraverso attività anche ludiche, divertenti e diciamo compatibili con le varietà dei possibili fruitori, dai bambini agli adulti e diciamo fruibili anche da parte di persone con disabilità. Sono previsti diversi percorsi ma anche dei micro attrattori e dei macro attrattori turistici che sono finalizzati appunto ad attirare un maggiore flusso di turismo ma anche di far conoscere meglio alla popolazione residente le caratteristiche ambientali e naturalistiche dei territori.